Colloqui coi personaggi Avevo affisso alla porta del mio studio un cartellino con questo avviso. Sospese da oggi le udienze a tutti i personaggi, uomini e donne, d'ogni ceto, d'ogni età, d'ogni professione, che hanno fatto domanda e presentato titoli per essere messi in qualche romanzo o novella. Nota bene, domanda e titoli, sono a disposizione di quei signori personaggi e non vergognandosi di esporre in un momento come questo la miseria dei loro casi particolari, vorranno rivolgersi ad altri scrittori, seppure ne troveranno. Mi toccò la mattina appresso di sostenere un'ampia discussione con uno dei più petulanti che da circa un anno mi s'era attaccato alle costole per persuadermi a trarre da lui e dalle sue avventure, argomento per un romanzo che sarebbe riuscito, a suo credere, un capolavoro. Lo trovai quella mattina innanzi alla porta dello studio, che si aiutava con gli occhiali e in punta di piedi, piccolo e mezzo cieco com'era, a decifrare l'avviso, in qualità di personaggio, cioè di creatura chiusa nella sua realtà ideale, fuori delle transitorie contingenze del tempo, egli non aveva l'obbligo, lo so, di conoscere in quale orrendo e miserando scompiglio si trovasse in quei giorni l'Europa. Si era perciò arrestato alle parole dell'avviso in un momento come questo e pretendeva da me una spiegazione. Erano ancora i giorni di torbida agonia che precedettero la dichiarazione della nostra guerra all'Austria ed entravo di furia nello studio con un fascio di giornali, ansioso di leggere le ultime notizie. Mi si parò davanti. Scusi, permette? Non permetto un corno, gli gridai. Mi si levi dai piedi. Ha letto l'avviso? Sì, signore. Appunto per questo. Se mi volesse spiegare. Non ho nulla da spiegarle. Non ho più tempo da perdere con lei. Via! Vuole le sue carte e i suoi documenti? Venga, entri. Prenda e se ne vada. Sì, signore. Ecco, ma se volesse dirmi almeno che cosa è accaduto. Sperando di farlo schizzar per aria, polvere, come per una cannonata bruciapelo, gli urlai in faccia. La guerra! Rimase lì impassibile, come se non gli avessi detto nulla. La guerra. Che guerra? Me lo tolsi davanti con uno strappo violento. Entrai nello studio, sbattendogli la porta in faccia. E buttandomi sul divano, corsi con gli occhi alle ultime notizie dei giornali. Se finalmente la dichiarazione di guerra era avvenuta. Se gli ambasciatori d'Austria e di Germania erano partiti da Roma. Se c'erano già i primi fatti d'armi per mare o alla frontiera. Nulla. Ancora nulla. E fremevo. Ma come? Ma come? Dicevo. Che si aspetta? E che aspettano ancora questi signori ambasciatori? Dopo le sedute solenni della Camera del Senato. E il delirio di tutto un popolo. Che da tanti giorni grida per le vie di Roma. Guerra! Guerra! Sono diventati sordi? Ciechi? L'albagia tedesca? La tracotanza austriaca? Dove sono più? Quattro, cinque volte nei giornali del mattino. Nei giornali del pomerizzo. In quelli della sera. Se loro hanno annunciato che i treni speciali sono pronti per essi. Niente. Sordi ciechi. E intanto a Trieste, a Fiume, a Pola, in tutto il Trentino si fa scempio e strazio dei nostri fratelli che ci aspettano. E noi li abbiamo lasciati partire, protetti e tranquilli, i signori sudditi austriaci e tedeschi. Mentre così pensavo, fremendo, ma venne di levar gli occhi dal giornale. E che vidi? Lui, quel petulante, quell'insoffribile personaggio, che era entrato non so come, non so d'onde, e se ne stava pacificamente seduto su una poltroncina presso una delle finestre che guardano sul mio giardinetto. Tutto ridente e squillante in quei giorni di maggio, di rose gialle, di rose bianche, di rose rosse e di carofani e di cerani. Guardava fuori con faccia beata i cipressi e i pini di Villa Torlonia di Rimpetto, dorati dal sole, abbaglianti sotto l'intenso azzurro del cielo, e stava a udire con delizia evidente il fitto cinguettio degli uccellini felicemente nati con la stagione e il chioccolio della fontanella del mio giardinetto. La sua vista inopinata e il suo atteggiamento di delizia mi suscitarono una rabbia che non so dire, una rabbia che avrebbe dovuto lanciarmi addosso a lui, e invece restava lì come schiacciata dal peso di uno stupore che era anche nausea e avvidimento. Gli vide a un tratto voltare verso di me quella beata faccia, con l'orecchio in tento e una mano appena levata. «Sente che bel trillo! È un merlo questo, sicuramente!» Afferra i giornali stesi sulle ginocchie, con l'impeto di piombargli con essi sopra ad accopparlo, urlandogli nel furore tutte le ingiurie, tutti i vituperi che mi venivano in bocca. «E poi? Sarebbe stato inutile!» Caraventai a terra i giornali, puntai i gomiti sulle ginocchie, mi presi la testa tra le mani. Poco dopo, con placida voce, egli ricominciò a dire «E che c'entro io, scusi, se il merlo canta, se le rose ridono nel suo giardinetto? Corra a mettere la museruola a quel merlo, se le riesce, e a strappar queste rose! Non credo, sa, che se le lasceranno mettere la museruola agli uccellini e tutte le rose di questo maggio da tutti i giardini, non le sarà mica facile strapparle!» «Mi vuol far saltare dalla finestra? Non mi farò male e le rientrerò nello studio dall'altra! Che vuole che importi a me, agli uccellini, alle rose, alla fontanella della sua guerra? Cazzi, il merlo da quella caccia! Se ne volerà nel giardino accanto, su un altro albero, e se guiderà di lì a cantare, tranquillo e felice! Noi non sappiamo di guerre, caro signore, e se lei volesse darmi ascolto e dare un calcio a tutti i codesti giornali, creda che poi se ne loderebbe! Perché sono tutte cose che passano, e seppur lasciano traccia, è come se non la lasciassero, perché sulle stesse tracce, sempre, la primavera, guardi, tre rose più, due rose meno, è sempre la stessa, e gli uomini hanno bisogno di dormire e di mangiare, di piangere, di ridere, d'uccidere e d'amare, piangere sulle risa di ieri, amare sopra i morti d'oggi. Retorica, è vero? Ma per forza, perché lei è così, e crede per ora ingenuamente che tutto, per il fatto della guerra, debba cambiare. Che vuole che cambi? Che contano i fatti? Per enormi che siano, sempre fatti sono, passano, passano con gli individui che non sono riusciti a superarli. La vita resta, con gli stessi bisogni, con le stesse passioni, per gli stessi istinti, uguale sempre, come se non fosse mai nulla, ostinazione bruta e quasi cieca, che fa pena. La terra è dura, e la vita è di terra. Un cataclisma, una catastrofe, guerre, terremoti, la schiacciano da un punto. Si ritorna poco dopo, uguale, come se nulla fosse stato. Perché la vita, così dura com'è, così di terra com'è, vuole se stessa lì, e non altrove. ancora, e sempre uguale. E vorrà anche il cielo, per tante cose. Ma, soprattutto, creda, per dare respiro a questa terra. Lei si agita in questo momento, freme, si arrabbia contro chi non sente come lei, contro chi non si muove. Vorrebbe gridare, far capaci tutti gli altri del suo stesso sentimento. Ma, se gli altri non lo hanno, lei si immaginerà che tutto sia perduto. E sarà magari tutto perduto, per lei. Fino a quando? Lei non vorrà mica morire, per questo. Guardi. L'aria, lei la respira, e non glielo dice che lei vive, quando la respira. Questo cinguettio d'uccelli nati ora col maggio, in questi giardini fioriti. Lei lode, e non glielo dicono questi uccelli, e questi giardini, che lei vive, quando gli ode cinguettare, e ne aspira ai profumi. Una miseria di pensiero lo assorbe. Di tanta vita che entra in lei per i sensi aperti, non ne fa conto. E poi si lagna. Di che? Di quella miseria di pensiero. Di quel desiderio insoddisfatto. Di un caso contrario già passato. E intanto tutto il bene della vita le sfugge. Ma non è vero. Sfugge alla sua coscienza, non a quel profondo oscuro se stesso, dove, senza saperlo, lei vive davvero e assapora il gusto della vita. Ineffabile, che è quello che la tiene, e che le fa accettare tutte le contrarietà, tutte le condizioni che il pensiero stima più misere e intollerabili. Questo veramente è ciò che conta. Immagini che tutto questo scompiglio sia finito, compiuta la strage. Si farà la storia, domani, dei guadagni e delle perdite, delle vittorie e delle sconfitte. Speriamo che la giustizia trionfi. Ma se non dovesse trionfare, trionferà, di cui ha un altro secolo. La storia ha larghi polmoni e un arresto di respiro è cosa momentanea. Può anche darsi del resto che sembri un'altra, di cui ha un altro secolo, la giustizia. Non c'è da fidarsi. E non è questo, creda, che importa. Ciò che realmente importa è qualcosa di infinitamente più piccolo e di infinitamente più grande. Un pianto, un riso, a cui lei, o se non lei, qualche altro, avrà saputo dar vita fuori del tempo, cioè superando la realtà transitoria di questa sua passione d'oggi. Un pianto, un riso, non importa se di questa o d'altra guerra, poiché tutte le guerre su per giù sono le stesse. E quel pianto sarà uno, e quel riso sarà uno. Così lo udì parlare a lungo, con una smania che mi esasperava di punto in punto, quanto più, parendome in fondo che dicesse giusto, mi sforzavo di frenarmi. Non avrai voluto ascoltarlo, e lo ascoltai invece fino all'ultimo. Quando scattai in piedi, sdegnato, amarezzato, naturalmente non me lo vidi più davanti. Come una tenebra d'angoscia mi aveva rioccupato il cervello. Ero ricaduto in preda alla mia accocente passione. Mio figlio doveva partire in quei giorni per la frontiera. Della sua partenza imminente volevo e non riuscivo a sentirmi orgoglioso. Egli avrebbe potuto, come tanti altri della sua età e della sua condizione, sottrarsi, almeno per il momento, ai suoi obblighi. Sarà invece presentato subito, volontario all'appello. Lo guardavo avvilito e quasi mortificato. Il ribrezzo più che trentenne di un'alleanza odiosa, fomentato ora dallo sdegno, dall'orrore delle atrocità commesse dai nostri alleati di ieri, aveva per dieci mesi roso il freno ad una disumana pazienza. E ora che questo freno finalmente accennava a rompersi, ora che il ribrezzo soffocato per trenta e più anni stava per prorompere e avventarsi? Ecco, non io, non noi, quanti siamo di questa sciagurata generazione a cui è toccata l'onta della pazienza, l'ignominia di quell'alleanza col nemico irraconciliabile, non noi dovevamo correre alla frontiera, ma i nostri figli, nei quali forse il ribrezzo non fremeva e l'odio non ribolliva come in noi. Prima i nostri padri, e non noi, ora i nostri figli, e non noi. Dovevo restare a casa, io, e veder partire mio figlio. Fuori di questa passione, fuori di questa angoscia, non potevo per il momento veder nulla. Dovevo consumare in me stesso un travaglio violento, l'ira, lo sdegno acerbo per quanto avveniva, per chi non poteva, non sapeva o non voleva fare, e si dava grottesche arie di fare, e avrebbe meritato in risposta un augurio di sconfitta, se le sorti nostre non fossero state sciaguratamente unite. Dovevo consumare dentro di me l'ansia senza requie per il mio figliuolo, che mentre io qua mi sarei straziato in vano, e sarei stato costretto purtroppo ad attendere e a soddisfare a tutti i piccoli materiali bisogni della vita, avrebbe esposta la sua lassù. E ogni momento, che per me sarebbe passato così, poteva essere per lui il supremo, e sarebbe toccato a me allora, dopo, di seguitarla a vivere questa atrocissima vita. Nell'ombra che veniva lenta e stanca, dopo quei lunghissimi, affosi pomeriggi estivi, e mi invadeva poco a poco la stanza, recando come una mestizia di frescura, un rammarico di lontane dolcezze perdute, io però da alcuni giorni non mi sentivo più solo. Qualcosa brulicava in quell'ombra, in un angolo della mia stanza. Ombre nell'ombra, che seguivano commiseranti la mia ansia, le mie smanie, i miei abbattimenti, i miei scatti, tutta la mia passione, da cui forse erano nate, o cominciavano ora a nascere. Mi guardavano, mi spiavano, mi avrebbero guardato tanto, che alla fine, per forza, mi sarei voltato verso di loro. Con chi potevo io veramente comunicare, se non con loro, in un momento come quello. E mi accostai a quell'angolo, e mi forzai a discernerle una ad una, quelle ombre nate dalla mia passione, per mettermi a parlare pian piano con esse. E mi è avvenuto, accostandomi per la prima volta all'angolo della stanza, dove già le ombre cominciavano a vivere, di trovarne una che non m'aspettavo. Ombra solo da ieri. Tu qui? E seduta, piccola, su seggiolone, non di qui, non di questa mia stanza, ma ancora su quello della casa lontana, oveppure gli altri ora non la vedono più seduta, ed onde neppure lei ora qui, si vede attorno le cose che ha lasciato per sempre. La luce di un sole caldo, luce sonora e fragrante di mare, e di quale vetrina, che luccica di ricca su pellettile da tavola. Di là il balcone, che dà sulla via larga del grosso borgo marino, per dove passa monotona, tutti i giorni, stridente di carri, la solita vita, di traffico per gli altri, di tedio per lei. Ne più si vede davanti i cari nipotini dai dolci occhi intenti ai suoi racconti, e quegli altri due, che più certo le è doludo di lasciare. Il vecchio compagno della sua vita, la figliola più amata, quella che fino all'ultimo la circondò di vigile adorazione. Curva, tutta ripiegata su se stessa per schermire gli spasimi interni, con le pugna sui ginocchi e sulle pugna alla fronte, sta qua, su quel suo seggiolone, che le ricorda tutte le cure della casa, e il tormento dei lunghi pensieri nell'ozio forzato, i viaggi dell'anima tra le memorie lontane, e il lungo soffrire, e anche sì, le sue ultime gioie, di nonna. Alla mia domanda, ma come mamma, tu, qui? Alza la fronte dai ginocchi e mi guarda, con quegli occhi che hanno ancora la luce dei vent'anni, ma in un bianco volto, molle e smunto dal male e dall'età. Mi guarda e ma cenna di sì, che è voluta venire, per dirmi quello che non poté per la mia lontananza, prima di staccarsi dalla vita. D'essere forte, mamma, mi dici, in questo momento di prova suprema per tutti. Forse sì, ma tu, mamma, proprio in questo momento, lasciarmi, partirti da quel tuo cantuccio laggiù, dove io venivo col pensiero a trovarti ogni giorno, quando più cupa e fredda mi doleva la vita, per rischiararmi e riscaldarmi al lume e al calore dell'amor tuo, che mi rifaceva ogni volta bambino. Solleva con pena le palpebre e atteggia il volto a un sorriso di pena, tenendosi sul grembo le povere piccole mani che tanto hanno lavorato, quasi per nascondere il male o verso gliele ha più torturate ed offese. E non quelle mani soltanto si tiene così, ma dentro così anche l'anima, per nascondere dove più le vicende della vita gliel'hanno offesa, dove più qualche parola degli altri gliela toccano al vivo e per non dire attraverso quel sorriso di pena se non ciò che conviene, non tanto per sé quanto per gli altri. E dice Non dovevo, ma io non ho voluto, figlio, benché tanto stanca. Lo sai, e con tanto bisogno di riposare dal troppo male di questa mia vita troppo lunga, lunga oltre ogni previsione dei miei tanti dolori. È venuta. Non la volevo. Per te non la volevo. E per tutti gli altri. Ma più per te che, lo so, giustamente domandavi che il mio cuore t'accompagnasse in quest'ansia angosciosa per il tuo figliuolo che combatte lassù. E t'ha accompagnato, figlio, il mio cuore. E forse per questo anche... No, no. Che c'entri tu? Non ha potuto lui, vecchio, correre troppo come doveva dietro alla tua ansia. E si è fermato. Ma meglio per me, così. Meglio, credi. Per te lo dico. Perché tu trovi in questo un conforto al dolore per la mia morte. non potevo riposare. Vedi il mio corpo come era ridotto? L'anima, sì. Quella. Ma anche il cuore, sai. Benché così stanco di battere. Anch'esso dentro era quello di prima. Con dentro ancora tutta, tutta la sua vita. Ma pure l'infanzia, sai. Tutta la sua vita. Anche coi giochi che facevo, piccola, coi miei piccoli fratelli. e tutti i visi e gli aspetti delle cose d'allora. Così vivi. Ma così vivi nel senso che aveva allora la vita per me che tante volte questa vita di poi mi è sembrata un sogno d'attorno e non quella già lontana e pur così presente qui nel mio cuore. Eh, perché la vita, figlio? Tu lo sai. Noi la diamo ai figli perché la vivano loro. E ci contentiamo se qualcosa ancora di riflesso ne venga a noi. ma non ci sembra più nostra. La nostra per noi dentro resta sempre quella che non demmo ma che ci fu data a nostra volta. Quella che per quanto nel tempo s'allunghi serva dentro pur sempre il primo sapore d'infanzia e il volto e le cure della mamma nostra e di nostro padre e la casa d'allora come essi l'avevano fatta per noi. Tu puoi saperlo quale fu questa mia vita perché tante volte io te ne parlai ma altro è viverla figlio una vita. Tentenna il capo e gli occhi brillano vivi nel fremito interno dei ricordi. E la mia fu pur triste dapprima la tiranne dai borboni a tredici anni con mia madre i miei fratelli le mie sorelle una anche più piccola di me ed anche due fratellini più piccoli noi otto e pur così soli per mare in una grossa barca da pesca una tartana verso l'ignoto Malta. Mio padre compromesso nelle congiure e per le sue poesie politiche escluso dall'amnestia borbonica dopo la rivoluzione del 1848 era là in esilio e forse allora io non potevo intenderlo non l'intendevo tutto il dolore di mio padre l'esilio far piangere così una mamma e lo sgomento e togliere a tanti bambini la casa i giochi la giatezza voleva dire questo ma anche quel viaggio per mare voleva dire con quella gran vela bianca della tartana che sbatteva allegra nel vento alta alta nel cielo come a segnar con la punta le stelle e nient'altro che mare intorno così turchino che quasi pareva nero e lo sgomento ancora a guardarlo ma anche quell'infantile orgoglio della sventura che fa dire a un bimbo vestito di nero io sono a lutto sai come se fosse un privilegio sopra gli altri bambini non vestiti di nero e anche l'ansia di tante cose nuove da vedere che ci aspettavamo di vedere con certi occhi fissi fissi che per ora non vedono nulla fuorché la mamma là che piange tra i due figli maggiori che sanno e capiscono loro sì e allora noi piccoli le cose da vedere di là nell'ignoto pensiamo che forse non saranno belle ma l'isola di Gozzo prima poi Malta belle con quel golfo grande grande d'un azzurro aspro luccicante da guzzi tremolì e quel paesello bianco di burmula piccolo in una di quelle azzurre in senatura belle da vedere le cose se non ci fosse qua la mamma che segui da piangere e poi presto dovemmo capire anche noi piccoli non più piccoli presto venivano i grandi nella nostra casa a trovare mio padre e tutti erano tristi e cupi come sordi e pareva che ciascuno parlasse per sé a quello che vedeva la patria lontana ove il dispotismo restaurato faceva strazio di tutto e ogni loro parola pareva scavasse nel silenzio una fossa loro erano qua ora impotenti nulla da farci e chi appena poteva per non struggersi lì in quella rabbiosa disperazione partiva per il Piemonte per l'Inghilterra ci lasciavano con sette figli e la moglie mio padre che altro poteva se non dire addio a tutti quelli che se ne andavano addio anche alla vita che se ne andava la rabbia e il peso di quell'impotenza l'avvilimento di vivere dell'elemosina ad un fratello che era stato costretto a cantare nella cattedrale con gli altri del capitolo il Tedeum per Ferdinando lo stesso giorno della partenza di lui per l'esilio un cordoglio senza fine la sfiducia che non avrebbe veduto il giorno della vendetta e della liberazione ce lo consunsero a poco a poco a 46 anni si chiamò tutti attorno al letto il giorno della morte e si fece promettere e giurare dai figli che non avrebbero avuto un pensiero che non fosse per la patria e che senza requie avrebbero speso la vita per la liberazione di essa ritornò la vedova ritornammo noi sette orfani in patria vendichi alla porta di quello zio che finora ci aveva mantenuti nell'esilio veramente santo veramente santo perché il bene che ci fece e continuò a farci senza mai un lamento era a costo per lui di paure da vincere ogni giorno d'offese da sopportare fingendo di non notarle offese alle sue abitudini alle sue opinioni ai suoi sentimenti e anche a costo di certe piccole grettezze da superare che ce lo rendevano tanto più caro quanto più vedevamo che gli cercava di sottrarvisi con comici sotterfugi con ingenue arti che ci facevano sorridere pietosamente tante volte tu sentisti dire da me lo zio canonico ma che puoi sapere di quella tua casa antica com'era che sapore di vita vi alitava com'era lui piccolo grande di busto piccolo di gambe così piccolo piccolo che in piedi era più corto che seduto ma bello di volto e poi con un certo suo curioso intercalare cattari cattari avrai potuto giurare effettivamente mentre si guardava le unghie con gli occhi bassi e la paura che aveva dei tuoni e certe prepotenti curiosità proibite che lo traevano a leggere di nascosto nella battaglia di Benevento la storia dei papi e di tanto in tanto lo sentivamo gridare mentre richiudeva di furia il libro e vi dava un pugno sopra ma questo è un pazzo e poco dopo tornava a leggervi da capo povero zio fumò pure ingrati qualche volta quella volta per esempio che la sbirraglia borbonica venne a fare una perquisizione anche nella casa di lui per i miei fratelli che erano già cresciuti e congiuravano e io giovinetta nel vederlo troppo impaurito e troppo ossequioso tremare innanzi a quei musi gli gridai ma non abbia paura lei costoro lo sanno bene che lei andò a cantare il tedeum alla cattedrale quando un fratello fu mandato in esilio e lui poverino mogio mogio si allontanò esclamando e guardandosi al solito le unghie cattari che femmina cattari che femmina eh sì troppo veramente mi doleva ad essere donna allora e di non poter seguire i miei fratelli io la cucii quasi al buio in un sottoscala la bandiera tricolore con cui il mio più piccolo fratello insieme con gli altri congiurati il 4 aprile 1860 uscì armato contro il presidio borbonico nella stessa ora che a Palermo un altro dei miei fratelli doveva irrompere dal convento della gancia e qua da noi in provincia di tanti che avevano giurato di scendere in piazza armati si trovarono in cinque soltanto contro i duemila borbonici tu puoi intenderla ora la nostra ansia mortale in quel giorno per questi due fratelli uno qua l'altro là sì è per il figlio ora la tua ansia ma c'era anche la mamma con noi allora e l'ansia era anche per noi quando dopo lo scampo miracoloso dei miei fratelli i gendarmi ritornarono a perquisire la casa mia madre ci dispose noi figuole ciascuna presso un balcone e ci ordinò se vi mettono le mani addosso buttatevi giù fiera donna di stampo antico mia madre per mesi e mesi figurati per tutto il tempo che durò la prigionia dei garibaldini dopo Aspromonte non volle che si desse alcuna notizia della famiglia a quello più piccolo dei miei fratelli che si trovava ufficiale dei bersaglieri nell'esercito solo per la supposizione che fosse stato anche lui tra i fucilatori di Garibaldi e contro all'altro fratello che bella ventura di raccogliere in quell'infausta giornata lo stivale forato e insanguinato del generale che giornata quella eppure la vita vostra di voi miei figlioli dipende forse da essa quando quel mio fratello ritornò dalla prigionia nella caserma a San Benigno a Genova tutto il popolo qua lo condusse quasi in trionfo alla madre e a noi che lo aspettavamo festanti e fu allora che io conobbi per la prima volta vostro padre reduce anche lui da Sprumonte Garibaldino anche lui del 60 carabiniere genovese avevo già 27 anni e non volevo più sposare mi toccò sposare perché lui lo volle lui che poteva imporsi al mio cuore con la bella persona e più in quei fervi di anni con l'animo che voi figlioli gli conoscete per cui ancora vecchio esulta e si commuove come un bambino per ogni atto che accresca onore alla patria con quest'animo e col mio la vita che vi abbiamo data figlioli miei nei tempi inerti e sordi che sono seguiti non poteva essere lieta lo so e lo so ora la tua pena figlio che forse è la stessa che a me donna mi bruciò tanto nell'anima di non poter fare e di veder fare agli altri quello che avremmo voluto far noi che per noi sarebbe stato niente mentre ci par tanto e tanto ci fa soffrire che lo facciano gli altri ma ecco per questo appunto io sono venuta figlio mio per dirti questo che tu l'hai voluta questa guerra contro tanti che non la volevano e lo sapevi che se poco ti sarebbe costato sacrificare in essa la tua vita tanto troppo invece ti sarebbe costato il solo rischio di quella del tuo figliuolo e l'hai voluta tu paghi dunque di sofferenze più che se fossi andato ti basti e Dio risparmi il tuo figliuolo avrai voluto pur soffrendo durare ancora fino alla vittoria ma pazienza non ho rinunziato a un dolore avrò perdurato una gioia perché la vittoria è certa mi basta che per me rimanga a vederla tuo padre voi del resto tu che mi sei stato sempre lontano così lontano pensatemi ancora viva non sono forse io viva sempre per te oh mamma sì io le dico viva viva sì ma non è questo io potrei ancora se per pietà mi fosse stato nascosto potrei ancora ignorare il fatto della tua morte e immaginarti come ti immagino viva ancora laggiù seduta su codesto seggiolone nel tuo solito cantuccio piccola con i nipotini attorno o intenta ancora qualche cura familiare potrei seguitare a immaginarti così con una realtà di vita che non potrebbe essere maggiore quella stessa realtà di vita che per tanti anni così da lontano ti ho data sapendoti realmente seduta là in quel tuo cantuccio ma io piango peraltro mamma io piango perché tu mamma tu non puoi più dare a me una realtà è caduto a me alla mia realtà un sostegno un conforto quando tu stavi seduta laggiù in quel tuo cantuccio io dicevo se ella da lontano mi pensa io sono vivo per lei e questo mi sosteneva mi confortava ora che tu sei morta io non dico che non sei più viva per me tu sei viva viva come eri con la stessa realtà che per tanti anni tu ho data da lontano pensandoti senza vedere il tuo corpo e viva sempre sarai finché io sarò vivo ma vedi è questo che io ora non sono più vivo e non sarò vivo per te mai più perché tu non puoi più pensarmi come io ti penso tu non puoi più sentirmi come io ti sento e ben per questo mamma ben per questo quelli che si credono vivi credono anche di piangere i loro morti e piangono invece una loro morte una loro realtà che non è nel sentimento di quelli che se ne sono andati tu l'avrai sempre sempre nel sentimento mio io mamma invece non l'avrò più in te tu sei qui tu mi hai parlato sei proprio viva qui ti vedo vedo la tua fronte i tuoi occhi la tua bocca le tue mani vedo il corrugarsi della tua fronte il battere dei tuoi occhi il sorriso della tua bocca il gesto delle tue piccole mani offese e ti sento parlare parlare veramente le parole tue perché sei qui davanti a me una realtà vera viva e ispirante ma che sono io che sono più io ora per te nulla tu sei e starai per sempre la mamma mia ma io io figlio fui e non sono più non sarò più l'ombra si è fatta tenebra nella stanza non mi vedo e non mi sento più ma sento come da lontano un fruscio lungo continuo di fronde che per poco mi illude e mi fa pensare al sordo fragoria del mare di quel mare presso il quale vedo ancora mia madre ma alzo mi accosto a una delle finestre gli alti giovani fusti da caccia del mio giardino dalle dense chiome indolenti si abbandonano al vento che li scapiglia e pardebba spezzarli ma essi godono femminamente di sentirsi così aprire e scomporre le chiome e seguono il vento con elastica flessibilità è un moto d'onda o di nuvola e non le desta dal sogno che chiudono in sé sento dentro ma come da lontano la sua voce che mi sospira guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più ne avrai un rammarico figlio che te le renderà più sacre e più belle grazie grazie grazie